Per la giornata internazionale della donna a Sudiano si sono incontrate donne sindaco, delegati ANCI, presidenti, direttori, chef, per parlare dei ruoli da loro raggiunti che possono oggi dare diritto ad altri. Una posizione in cui mi trovo che fa vedere, come dicevi te, anche i diritti delle persone da un altro punto di vista e quindi per me è un dovere rispettare certi diritti e comunque garantirli sempre e riconoscerli davanti a tutto e davanti a tutti. Noi non vogliamo metterci in competizione con nessuno, noi vogliamo dimostrare che siamo e che possiamo tanto quanto l'altro, quindi non più donna uomo ma persona. Donne che sostengono il diritto alla sostenibilità e il diritto all'inclusione. Vedendo proprio all'interno del ristorante un percorso di degustazione dei prodotti tipici, locali e soprattutto stagionali, ha fatto sì che scontrandomi con altre tradizioni comunque sapessi lavorare qualsiasi tipo di ingrediente. Mi rendo conto che non è facile, che è il cammino da fare ancora tanto, che le imprese non sono pronte, che la società non è pronta. Non siamo pronti forse neanche noi a gestire una vera inclusione totale, però il passaggio che deve fare è quello di non nascondersi, cioè di accettare il fatto della diversità qualunque essa sia, accettarla e per accettarla devi fare un percorso. Il percorso che io ho voluto fare con Officina 104, quindi con l'associazione, è proprio quello di creare l'opportunità di dare a questi ragazzi la possibilità di non essere un peso ma essere visti come risorsa. Ma ancora il cammino della donna sarà lungo. Le imprenditrici sono una categoria di donne coraggiose, tenaci, sicuramente con tantissima forza di volontà ma che purtroppo non hanno gli stessi diritti di altre donne che magari fanno altri tipi di mestieri. In Toscana ci sono solo sei consorzi di bonifica e sono l'unica presidente donna in tutta la Toscana. All'interno del mio consorzio di bonifica io vanto con orgoglio la presenza di tante donne capaci. Noi dobbiamo secondo me un po' iniziare anche a rifiutare certe modalità, certi approcci. Io adesso quando gli uomini, anche esponenti politici, istituzionali, fanno le battute, io non rido più. Ho deciso che non rido più e gli dico che non mi fa più ridere, che non mi fa per niente ridere. Le battute che a volte pensano, vengono magari in ufficio, poi se ne vanno e comunque le devo dire una cosa, ma che bella signorina, le devo dire, ma... E io sfido qui a dire che non ci sono sentite dire queste cose.